Una vittoria schiacciante con un punteggio tennistico E' molto divertente, a tratti incredibile, però so mister che i gol subiti ti danno tanto fastidio Eh vabbè, lasciamo stare, infatti penso che in settimana anziché soffermarmi tanto sui gol fatti e sulle belle giocate Perché i ragazzi veramente a tratti hanno offerto veramente spettacolo Mi soffermerò molto, molto sui gol subiti Anche perché i primi due che abbiamo preso è uguale, identico a quello che abbiamo preso con la Turris E non va bene, la passione di attenzione è che questi ragazzi a questi dati dovrebbero avere Però abbiamo il tempo per lavorarci solo Qual è la cosa mister che ti soddisfa di più di questa giornata? La cosa è che veramente tutti hanno lottato su ogni pallone Hanno svolto il loro compitino che io ne do pochi Ma veramente ne do pochi perché do libertà al loro pensiero di calcio Do solo degli input E la cosa che mi ha soddisfatto è stata quella Lottavano su ogni pallone e quando si poteva giocare hanno giocato palla sempre anche in difficoltà E questo ha dato merito ai ragazzi